Oggi sta qua. La testa di denaro si è recato dai carabinieri della compagnia di Giuliano e ha denunciato tutto. Dopo una serie di indagini il suo strozzino è finito in galera. I militari dell'arma hanno infatti arrestato un uomo di 62 anni di Melito. L'uomo a fronte di un prestito di 22 mila euro era riuscito ad ottenere da un commerciante di Giuliano la restituzione a tassi usurari di ben 44 mila euro. La vittima originaria che ha la sua attività a Mugnano era arrivata allo stremo. L'uomo che si è rivolto allo strozzino poiché era in gravissima difficoltà ha consegnato i soldi fino a quando ha potuto. Poi è arrivata la denuncia e l'intervento dei carabinieri. Due soggetti già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati a Napoli in flagranza di furto in appartamento dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero. Si tratta di un 34enne e di un 38enne, entrambi di Miano. I militari dell'arma sono intervenuti d'urgenza in via Emilio Scaglione a seguito di segnalazione a 112 che avvertiva della presenza di persone sospette. I due, intuito l'arrivo dei militari, si sono dati alla fuga saltando sul tetto di una palazzina. Subito i rincorsi sono stati raggiunti e bloccati prima che riuscissero a calarsi dal tetto dei palazzi vicini. Per essere pronti all'emergenza in caso di terremoto in mare, i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e i militari dell'esercito italiano si sono riuniti in Piazza del Lico a Pozzuoli per la terza edizione dell'esercitazione congiunta Efesto 2017. Lo scenario è quello di un terremoto a largo della costa del Golfo di Pozzuoli, a una profondità di circa 8 km, che potrebbe scatenare anche un maremoto con onde alte quasi 3 metri. Un evento del genere renderebbe necessaria l'evacuazione medica degli abitanti al rischio e così, grazie all'esercitazione promossa e organizzata dal Comune di Pozzuoli e dall'Accademia Aeronautica, con la collaborazione del 118, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, con l'alto patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cittadini non si faranno trovare impreparati. E' di circa 4 milioni e 400 mila euro il costo degli interventi di manutenzione straordinaria stradale affidati dalla città metropolitana di Napoli, con la firma del relativo contratto alla ditta che ha vinto la gara d'appalto. Si tratta di interventi che interesseranno numerosi comuni dell'area orientale della città metropolitana per complessivi 350 km di strade provinciali. Città metropolitana ha affidati lavori stradali per 4,4 milioni di euro. Il primo gruppo interesserà i comuni di Nola, Saviano, Palma Campania, Ottaviano, Somma Vesuviana, San Paolo Bersito, Casa Marciano, Comiziano Tufino e Visciano. Si allontana ancora la data di apertura dello storico parco dei divertimenti di Napoli e dell'Andia. L'inaugurazione, prevista inizialmente per il 31 maggio, secondo le ultime discrezioni, potrebbe essere ulteriormente posticipata. A mancare al momento sarebbero le autorizzazioni del Comune e della soprintendenza che devono ancora pronunciarsi per il certificato di agibilità. Proprio a fine maggio, come riporta Repubblica, scadranno gli ammortizzatori sociali per i 53 lavoratori del parco divertimenti. I 10 sono stati assunti da New Edenlandia, società che ha rilevato l'azienda fallita. I tanti affezionati alla struttura di fuori grotta intanto sperano che le formalità burocratiche possano essere superate presto e che l'impianto possa essere restituito alla città entro l'estate. Ed è prevista per il prossimo 8 maggio a Roma la cerimonia in cui la FI svelerà ufficialmente le località italiane premiate con le bandiere blu d'Europa. La campagna anche quest'anno rientrerebbe tra le regioni più decorate d'Italia e risulterebbe, come per il 2016, la prima del centro-sud. Lo scorso anno furono posizionate sulle spiagge ben 14 bandiere grazie all'ingresso di San Mauro Cilento. Soltanto l'esclusione a sorpresa di Sapri cancellò la speranza di ottenere un nuovo record. E sono già 22.000 i biglietti venduti per l'incontro di calcio Napoli-Cagliari in programma al San Paolo sabato alle ore 18. Sotto lo stadio, anche grazie ai ticket a costo basso, è pronto a riempirsi e riferirlo all'edizione napoletana di Repubblica. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Appuntamento al prossimo DG. Grazie a tutti. Grazie a tutti.